Beni per circa un milione di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli a quattro falsari, arrestati dai carabinieri nell'ambito dell'indagine sulla vendita di banconote contraffatte in Italia e in vari paesi europei. Il decreto di sequestro riguarda in particolare colui che viene ritenuto il capo della banda di falsari in rapporti con il clan camorristico dei Mazzarella. Il provvedimento è frutto di accertamenti economico-patrimoniali dai quali sono emerse significative incongruenze tra il 2004 e il 2022, fra i beni nella disponibilità degli indagati e dei rispettivi nuclei familiari e i redditi dichiarati o le attività economiche svolte. Figurano tre abitazioni, due magazzini, rapporti bancari e finanziari riconducibili agli indagati e un basso nel quartiere Pendino di Napoli e poi ancora sigilli a una congrega religiosa usata come circolo ricreativo e trasformata nella base operativa per lo smercio delle banconote contraffatte.